ciao ragazzi allora come vedete sono arrivate qualche giorno l'altro ieri le custodie e il vetro temperato per iphone 7 la particolarità allora chiaramente ancora nessuno sa veramente dimensioni e tutto quanto quello che possiamo sapere che un 4 7 pollici quasi sicuramente se non ci hanno tirato un bidone un 4 7 pollici quasi sicuramente questo 47 pollici quindi come l'iphone 66 s come dimensioni io credo che sia vero perché comunque tra due tre quattro giorni il giorno sei comunque di settembre lo presenteranno al www di las vegas e quindi sono già in giro chiaramente i produttori di cover e di vetri sono già state date le misure come sarà fatto lo vedremo soltanto dopo il giorno sei appunto quando verrà presentato da lui da lui bc però possiamo sapere una cosa in anteprima secondo me abbastanza interessante che lo schermo come vedete qui sarà da 4,7 come quello dell'iphone 6 o del 6s quindi le dimensioni a quanto pare non saranno invariate l'unica cosa che presumo varierà saranno la la forma sicuramente perché come sempre apple su queste cose abbastanza cambia qualcosa cambia sempre niente era semplicemente una cosa che pensavo che poteva essere interessante per voi potrebbe essere che ci ha tirato anche un bidone non lo so ma non credo perché è un fornitore da cui ci formiamo da tanto tempo quindi dubito che ci abbia tirato un bidone ragazzi comunque fino al 6 non si saprà la vera la vera forma dell'iphone 7 non si sa per oggi questo è tutto vi saluto buona giornata